Tutti assolti i 14 aquilani che il 9 novembre 2010, nel giorno dell'ultima visita all'Aquila, dell'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, organizzarono una contestazione fuori della scuola d'ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito, in cui venne danneggiata anche l'auto dell'allora vice commissario per la ricostruzione Antonio Cicchetti. Ad annunciarlo, sulla pagina Facebook, è il Comitato 332, di cui molti degli imputati facevano parte. Assolti, scrive il 332, 14 imputati e imputate nell'ennesimo processo per le manifestazioni post-sisma dell'Aquila sono stati appena assolti perché il fatto non sussiste, per il reato di violenza privata e per non aver commesso il reato, manifestazione non autorizzata. Secondo il 332, in quella stagione di grande mobilizzazione popolare, è stato messo in scena dallo Stato un meccanismo fortemente repressivo con l'obiettivo di indebolire un forte movimento popolare e di farci perdere decine e decine di giornate in tribunale. La procura della Repubblica dell'Aquila aveva disposto la citazione diretta in giudizio per risponenti dei comitati e del movimentismo cittadino post-terremoto che, secondo gli inquirenti, non avevano comunicato la manifestazione pubblica, violando per questo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, contestazione smentita dalla sentenza. Inoltre, per sé di loro, era stata contestata anche la violenza privata in relazione ai danneggiamenti avvenuti nella stessa giornata dell'automobile di Cicchetti, due tipi di reato per i quali appunto non è previsto il filtro dell'udienza preliminare, ma finiti direttamente al vaglio del giudice monocratico. Gli imputati con entrambe le accuse erano Anna Lucia Bonanni, Berardino D'Angelo, Lucia De Biasi, Martia Fonsi, Mattia Lolli e Giuseppina Pitari. La sola violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, invece, era stata contestata ad Anna Maria Barile, Claudia Colacchi, Antonio Congeduti, Paolo Dell'Aventura, Antonio Gasbarrini, Alessandro Gioia, Giuseppina Lauria e Gianluca Taralli. Tutti i 14 indagati sono stati assolti. Quella del 9 novembre fu l'ultima visita all'Aquila delle oltre 30 fatte dal 6 apriere 2009 in poi da Berlusconi, quando era già caduto in disgrazia verso una parte della cittadinanza. In quell'occasione, tra l'altro, donò 200.000 euro all'Aquila Regbi. L'occasione era la consegna dei riconoscimenti di protezione civile a 18 responsabili e 83 strutture per il servizio svolto nel posto terremoto programmato da tempo.